fabi tg speciale coronavirus edizione 18 marzo 2020 massiccia affluenza di clientela anche per operazioni non urgenti e code di anziani situazione di emergenza per i contagi fra le lavoratrici e i lavoratori serve un provvedimento straordinario in accoglimento della richiesta già formulata ad Abio ovvero la chiusura per 15 giorni di tutti gli sportelli bancari su tutto il territorio nazionale Germania stasera Merkel parla alla nazione Stati Uniti ha già emergenza oltre 6.000 pazienti positivi e 118 morti in poche ore Nei casi accertati di infezione da coronavirus Lina il tutelerà i lavoratori come se fossero infortunati erogando le prestazioni anche per il periodo di quarantena con la conseguente astensione dal lavoro. La disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati Il governo stima che la sospensione delle rate dei mutui casa possa essere richiesto da oltre 230.000 titolari di partite IVA ovvero la metà degli autonomi in possesso di prima casa La regione Campania ha deciso di acquistare un milione di test rapidi da utilizzare nella fase pre-triage. L'antibody determination kit è stato utilizzato con successo in Cina e consente di avere un risultato altamente probabile sull'eventuale positività del paziente